Ciao, come ti chiami? Rocca, sto pulendo la spiaggia per farla essere più pulita e per fargli tutta la pratica in modo che gli animali rimuogliano sotto caso. Ciao, come ti chiami? Miriam, stiamo ora pulendo la spiaggia della spiaggia e per dare un futuro anche alle persone che nasceranno qui là. Abbiamo trovato una bombola del gas e due boi. Ciao, come ti chiami? Vanessa. E in mano che cos'hai adesso? Le reti di attestatori che qui c'è un bimbo. Che è tutta plastica, vero? E queste reti sono inquinanti, ma soprattutto per chi cosa possono essere pericolose. Per i tersi, per le cattarughe, per gli animali che le scambiano perci. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Giuseppe. Sono venuti qua per postare le cose inquinate che hanno portato le cose alle persone cattive. Però tutti dobbiamo ricordarci che non dobbiamo inquinare, quindi anche le persone buone. A volte si dimenticano, certe cose non si fanno e poi tutto questo materiale ce lo troviamo sulle spiagge. Grazie a tutti. Grazie a tutti.